Ciao a tutti, spero che siete tutti bene, oggi nuovo video e andiamo a vedere molto brevemente quello che è successo durante l'ultimo trimestrale di questa azienda qua. Alla fine, come promesso, vi lascerò la mia valutazione aggiornata, perché per chi non lo sapesse di questa azienda qua, ne ho già parlato, beh, innanzitutto, anni fa. Ma anche nell'ultimo video in cui vi mostro tre aziende da comprare, secondo me, o comunque da monitorare, nel mese di febbraio. Quindi se vi siete persi il video, guardatevi prima quello magari, potete vedere anche le altre due aziende e successivamente andiamo a vedere qual è la mia valutazione aggiornata. Per chi se lo stesse chiedendo, l'azienda di cui andiamo a parlare oggi si chiama InMod. Per chi non lo sapesse, InMod non è altro che un'azienda israeliana che vende i propri prodotti all'incirca in 90 paesi in tutto il mondo, compresa l'Italia. I prodotti che vende sono semplicemente dei macchinari che vengono utilizzati nei centri estetici, nei centri chirurgici e dei medici in generale e si parla di chirurgia non invasiva o minimamente invasiva. Tra l'altro, per chi non sapesse cosa significasse appunto chirurgia invasiva o quale sia appunto la differenza, Vi dico solo che la differenza sostanziale è il fatto che in generale la chirurgia invasiva prevede come minimo dei tagli o delle aperture che devono essere poi successivamente chiuse tramite punti e che comunque lasciano cicatrici sul proprio corpo. Mentre la chirurgia non invasiva appunto non lo prevede. Il modello di business di InMod prevede semplicemente che vengano venduti appunto questi macchinari qua ai centri estetici, ai centri chirurgici in generale, Venga venduta loro assistenza ricorrente e anche la spiegazione su come debbano essere utilizzati correttamente i relativi macchinari. Considerate che InMod è passata da fatturare all'incirca 100 milioni nel 2018 a fatturarne all'incirca 450 nel 2022, quindi ha praticamente fatto un per 4 in 4 anni, quindi molto molto bene. Stiamo parlando anche di un'azienda che ha fatto un per 4 delle revenue e ha fatto anche un per 4 in borsa, infatti da quando si è quotata nel 2019 è passata all'incirca da 7 dollari a 36 dollari per azione, con un picco toccato nel 2021 quando tutte le aziende growth hanno avuto sempre, secondo me, valutazioni abbastanza folli di 93 dollari. Successivamente poi scesa e attualmente ha un prezzo di 36 dollari, come vi dicevo, a meno 61% dai massimi. Mi sono segnato un paio di cose che secondo me sono interessanti da dirvi dell'ultimo trimestre, ma vi dico semplicemente che per quanto riguarda i dati usciti ha avuto praticamente un double bit, perché ha battuto sia gli utili operazioni stimati sia i ricavi stimati, con una crescita di quest'ultima all'incirca di un 21% anno su anno, quindi molto molto bene. La cosa che ha fatto scendere un pelo il titolo è il fatto che la guidance sia stata leggermente inferiore rispetto alle stime dei analisti. Infatti per il 2023 in modo stima all'incirca un'utile operazione di 2,58-2,60 contro le stime dei analisti che erano 2,64. Per quanto riguarda invece la previsione dei ricavi, in modo stima all'incirca 525-530 milioni di dollari, che sono in linea con le stime. Considerate però che in modo è praticamente sempre stata molto molto conservativa negli anni passati sulle guidance, tant'è che se voi andate a vedere un po' lo storico ha praticamente sempre battuto le stime dei analisti, tranne forse due volte su una ventina di rilasci dei utili. Quindi direi che siamo abbastanza tranquilli che a meno che non ci sia una grave recessione negli Stati Uniti, ma nel mondo in generale, in modo potrebbe tranquillamente battere le stime sue prefissate. A breve andremo a vedere la mia valutazione aggiornata, ma prima voglio farvi vedere secondo me quali potrebbero essere due punti di sostegno molto interessanti per la price action. Infatti come possiamo vedere abbiamo un supporto all'incirca intorno ai 32 dollari e dovesse scendere sotto questa cifra qua, secondo me potremmo anche ritestare i 27 dollari. Considerate che a mio avviso questi qua potrebbero essere due punti di ingresso molto molto interessanti, ma dopo, ovvero tra poco, andremo a vedere quale potrebbe essere invece secondo me una valutazione molto interessante. Considerate che dopo la trimestrale l'azienda ha fatto praticamente un più 20% in due giorni e poi si è rimangiata praticamente tutto insieme al crollo del mercato, cioè crollo della discesa nuovamente del mercato. Quindi a vedere se secondo me potrebbe essere interessante entrare a questi prezzi qua. Per quanto riguarda la valutazione utilizziamo un mio algoritmo che per chi non lo sapesse va a dare un rating da 1 a 10 per quanto riguarda la salute dell'azienda e tiene conto di alcuni parametri dello stato patrimoniale, del conto economico, della crescita stimata per gli utili per l'azione per i prossimi anni, e ci dà appunto un rating da 1 a 10. Considerate che un rating di 8.67 è un rating molto molto alto e questo principalmente dovuto al fatto che InMod abbia sostanzialmente uno dei migliori stati patrimoniali che io abbia mai visto, così tratta che ha praticamente cash e cash equivalent per 550 milioni contro debiti a breve praticamente di 0 e debiti a lungo termine praticamente di 0. Quindi avremo possibilità in futuro di fare o acquisizioni strategiche o di rilasciare dividendi o fare le solite e tanto amate share buybacks. Quindi tratta che la salute patrimoniale ha un voto di 10. Forse è il voto più alto che ho mai visto. Per quanto riguarda i conti economici, abbiamo anche qua una valutazione altissima. Infatti è una valutazione di 9.56 su 10, quindi anche qua altissimo dovuto principalmente al fatto che ha un ROE di 33, un gross margin dell'84% e pensate, un net margin del 35%. Vuol dire che su 100 dollari che fa dei ricavi, 35 li mette in tasca che è veramente veramente molto molto elevato. Considerando poi che non è un'azienda tech o comunque che si basa principalmente su software. Quindi sono valutazioni molto molto interessanti. Per quanto riguarda anche la valutazione sui multipli, abbiamo qua dei buoni dati perché abbiamo un price earnings di 19, un price to free cash flow di 16 e un PEG addirittura di 1.03 che per chi non lo sapesse il PEG è semplicemente il PE fratto alla crescita stimata di utile operazione per i prossimi anni. Detto questo andiamo a vedere la mia valutazione personale. Per quanto riguarda il discounted cash flow, stimando una crescita appunto del free cash flow da qua ai prossimi anni all'incirca di un 10-12% otteniamo un fair value all'incirca di 54 dollari che ci porta a una sottolotazione all'incirca del 50%. Ora però andiamo a vedere la valutazione sui multipli. Qua la situazione non cambia troppo, stimando infatti una crescita dell'utile operazione da qua a 3 anni all'incirca di un 15-20%. Io sono stato forse non troppo conservativo ma ho stimato una crescita dell'utile operazione da qua a 3 anni all'incirca di un 18% e dando un PE all'azienda all'incirca di 18-19 otteniamo un prezzo tra 3 anni all'incirca di 60 dollari che ci permetterebbe di avere un gain da qua a 3 anni all'incirca di 65%. Quindi sicuramente un ottimo prospetto. Detto questo fatemi sapere cosa ne pensate all'azienda qua sotto con un commento. Ciao a tutti!